Ciao ragazzi, prima delle pagelle di Juventus Fiorentina voglio farvi vedere una cosa. Attenzione, questo è per i veri appassionati di calcio che amano emozionarsi di fronte ad alcuni soggetti. Sì, sto parlando del fenomeno dell'idolo juventino, della leggenda bianconera, Toselli con numero 17. Ve lo ricordate, no? Sì, perché tutti abbiamo in mente i grandi idoli del passato, quelli di ieri, ma quelli di oggi e quelli del domani? Del Biero, Bernabeu, con quella doppietta spettacolare a Real Madrid, con quella fantastica maglia dorata, con quella standing ovation. Sì, è vero, i ricordi sono belli nella testa, ma anche collezionarli non sarebbe male. E come ben sapete, le maglie originali da calcio, un centinaio di euro almeno te li portano via. Poi se le volete appendere, come ho fatto io lì dietro, un'altra ventina, trentina di euro per la cornice, devi fissarla. Ci sono un po' di cose da fare. Ed ecco che arriva il nostro iuto Futuro Shop, un'idea fantastica. Ha creato queste cornici in legno, con all'interno dei poster stampati in autorisoluzione, che danno proprio l'effetto vero e proprio della maglia. Per rendere accessibile a tutti la possibilità di collezionare e far parlare i muri di casa, anche senza dover acquistare la maglia originale. In un'ora vi risponderanno, vi potranno creare questa cornice, quella che vi è 30x40, al cui interno c'è anche il kit per appenderla al muro, molto importante. Spedizione gratis in tutta Europa e in questo periodo nel sito c'è uno sconto del 20%, quindi direi che farci un salto non è mica male. Ultimo ma non meno importante, ogni cornice che viene prodotta viene piantato un albero per compensare le emissioni di CO2. Ancora una volta vi invito a passare qui sotto in descrizione per il link con cui richiedere la vostra cornice. Bene o male se comprate la maglia originale e la cornice per ogni maglia da appendere, diciamo che con una volta sola che andate a fare la maglia originale, beh, comprate tre cornici su Futuro. Eccoci qua. Salve a tutti. Analizziamo per l'ultima volta, prima della pausa nazionale, la prestazione della Juventus con dei voti all'allenatore e ai giocatori individuali. Qualcuno l'altro giorno mi ha detto, è simpatico ve lo voglio riportare poi iniziamo, che faccio video troppo lunghi per le pagelle e ovviamente la prima parte del video lo dedico alla partita, all'analisi di Allegri e quindi a quello che ho visto. E mi diceva, non potresti fare soltanto le pagelle dei calciatori. Sì, potrei però, ragazzi, a me piace veramente parlare anche dell'allenatore, come c'è stato la partita, di quello che ho visto per darvi veramente il contenuto più a 360 gradi possibile. Quindi vorrei continuare su questa linea, fatemi sapere se per voi è positiva come cosa oppure no. Massimiliano Allegri, so che oggi farò discutere, perché voglio dargli 6, ma voglio spiegarvi anche il perché del 6. Probabilmente sulla carta una partita del genere dove si fa male il portiere titolare, si fa male il difensore centrale titolare, deve giocare il vice, cioè Chiellini. Si fa male anche lui, gioca il quarto difensore che non aveva mai fatto minuti contro una squadra che stava andando veramente bene, che era super time classifica, e la vinci senza subire tiri in porta. Se questa è la narrazione della partita, è una partita da di più di 6, indubbiamente. Per come è arrivata la partita invece, devo dire che un mezzo voto in meno glielo devo dare. Ma non tanto, ragazzi, non è il abbiamo giocato male, bla bla bla. Ma poi lo sapete, a me quando non tiriamo in porta mi imbestialisco, mi imbestialisco, perché non ti dai in porta a giocare a calcio, veramente è una roba assurda. Il punto è che secondo me davvero insistere con questa scelta di Rabbeo in quella posizione è controproducente. Ora, sarebbe facile, e non lo farò, quindi intendiamoci, non è quello il punto. Perché sarebbe facile mettermi qua e dirvi, avete visto, ve l'ho detto, quanto tempo è che vi dico chiesa più quadrado più di bala dietro una punta, ecco abbiamo vinto così. No, non è quello il punto. Anche perché mancavano pochi minuti, la Fiorentina era uno in meno, quadrado era fresco, quindi ci sono troppe variabili impazzite rispetto a quello che è la mia idea di vedere dal primo minuto con quel 4-2-3-1, con quei tre dietro la punta. Quindi non voglio portare acqua al mio mulino, non è questo. Però sicuramente l'idea di avere un quadrado insieme a un chiesa che crea dell'ampiezza, a differenza di Rabbeo, che non lo fa, io penso che possa aiutare tanto all'interno di una partita, anche mettere molto in difficoltà delle squadre, perché sono i nostri due punti forti, gli esterni. Abbiamo degli esteri veramente di corsa, di spinta, poi il quadrado in questo periodo non era eccellente e quindi possiamo anche pensare che potesse essere quella. Ma dall'altra parte c'è un Bernardeschi che stava facendo molto bene in questo periodo, ma veramente molto bene, lo so che è strano dire così, ma secondo me Bernardeschi meritava il posto del titolare nella partita di ieri. Anche perché Bernardeschi quel ruolo che fa Rabbeo, quello che vuole Allegri, lo fa molto bene, quel libero esterno, mezzo centrocampista, mezzala, lo fa molto bene. Quindi nella mia testa c'era quello, poi aggiungo il fatto che, vabbè, non l'abbiamo tirato in porta, già questo dovrebbe far abbassare il voto. La terza cosa che fa abbassare il voto secondo me è la gestione tardiva dei cambi, perché io posso capire, sì, che tu voglia partire un po' più coperto, va benissimo, però a un certo punto bisogna avere il coraggio di vincerla, perché l'esplosione di Milenkovi c'è un episodio, e io lo so bene che Allegri su queste cose ci vanno a sé, intendiamoci, io conosco Allegri, so qual è la sua idea di calcio, e anche quando quest'estate parlava della gestione dell'imprevisto contro l'Udinese, è vero, sì, è stato un imprevisto che ci ha complicato la partita, il doppio infortunio di Scesni, la doppia papera di Scesni, però sono episodi che devi mettere in conto, e quindi ieri c'è andata bene, con l'Udinese c'è andata male, però sappiamo che il calcio è fatto continuamente di questi episodi che cambiano l'inerzia e l'equilibrio di una partita, secondo me dobbiamo anche essere più bravi ad andarci da cercare, poi, ribadisco, avrei dato continuità alla formazione titolare, quella vista con lo Zenith, sì, non ci sei riusciti per un discorso legato agli infortuni, ma quella Rabiot-Bernardeschi proprio non mi va giù, anche perché ancora una volta Rabiot secondo me ha fornito una prova in colore, quindi se quelle premesse erano una partita comunque tosta, difficile andare a giocare e vincere contro la Fiorentina, e va benissimo la vittoria, sono proprio contento, anche che sia levata in questo modo sporchi, me la porto a casa, dall'altra qualcosina ancora che non va secondo me c'è, ma Allegri rimane, la nottea della Juventus non sono qua a contestare Allegri, non è che gli ho tolto mezzo voto, come non sono qua a esaltarlo, ecco, mettiamoci in testa che il 6, non è un voto né super positivo né super negativo, mi viene in mente quando giocavamo con Sarri, c'erano delle partite veramente che continuavo a dire, siamo troppo puliti, dobbiamo sporcarci un po' di più, perché sembra che usciamo dal campo e siamo ancora tutti belli, bianchi, non ci piace sporcarci, non vinciamo le partite in modo sporco, cerchiamo sempre di arrivarci in modo lindo, e questo magari ci lascia indietro qualche punto, oggi invece stiamo vincendo perché avete tutti in modo sporco, siamo pieni di fango da testa e i piedi, non si vedono neanche le facce dei giocatori, sono tutti sporchi di fango, le vinciamo in modo sporco, ci deve essere un po' di equilibrio tra le due cose. Poi, dicevamo Perin, che gioca titolare, 6, l'unica palla che tocca bene o male Perin con i guantoni è per smanacciare un cross e basta. Ah, dimenticavo, dato che si è parlato di giovani in questo periodo, quella di ieri è stata la Juventus più giovane schierata in assoluto alla Massimiliano Allegri in questa stagione. La media dell'età è 27.45, ci si avvicinava con la partita con lo Spezza dove era 27.55. Poi sapete come calcolo io l'età, siamo nella stagione 21-22, quindi io considero tutti calciatori come se fossimo alla fine del 2022. So che non è corretto, quindi questo numero è anche un po' più basso, è per cercare di dare uniformità e non dover sempre star lì a dire chi ha compito gli anni in questo periodo, aspetta che vado a modificarlo, no, faccio molto prima a fare così, muovetevi voi di conseguenza, ad ogni modo il dato non cambia. È il Juventus più giovane che ha schierato Allegri da inizio campionato. Per esigenze di infortunio? Assolutamente sì. Ma rimane la più giovane e l'abbiamo portata a casa lo stesso, anche faticando, anche in quel modo lì, con i più giovani. E ce n'erano tanti altri fuori dei giovani. È un buon passo in avanti. Poi, De Litt, 7, perché si è messo nel taschino Vlaovic e chissà se sarei liberato in questo periodo. Abbiamo parlato tanto di Vlaovic, di come possa farci comodo, possa essere utile. C'è da dire che contro un difensore internazionale come De Litt ha fatto poco e niente. Poi la Fiorentina, sicuramente, non ha fatto nemmeno una prestazione così tremenda, però ha mai tirato in porta, come noi, fino al settantesimo minuto di gioco. Quindi, bravo De Litt. Cosa ti devo dire? Bravo De Litt, anche perché non era facile giocare di fianco a uno come Rugani. Non è un'offesa, però è un giocatore che veramente non gioca da una marea di tempo con la maglia della Juve, poi addirittura è ancora più pesante, diventa impegnativa. È per questo che voglio premiarlo Rugani, dargli 6,5, perché insieme a De Litt, veramente, se mi avessero detto vinci in casa, con la Fiorentina, con De Litt e al suo fianco Rugani, con Perini in porta perché si fa male Scesni e a un certo punto si fa male pure Alexandro ed entra Luca Pellegrini e vinci con la coppia difensiva Rugani-De Litt senza prendere tiri in porta, praticamente. Avrei firmato. Cioè, ve lo dico proprio nella più totale tranquillità. Poi la partita non mi è piaciuta, questo rimane. Ma avrei firmato. Proprio perché avevi una paura scellerata di Rugani. Invece ha fatto qualche sbavatura, sì, ma lo voglio premiare con il 6,5 proprio perché non abbiamo subito praticamente mai Vlaovic e la Fiorentina. Se no in qualche minuto nel primo tempo dove ha messo il muso dalle nostre parti e basta. Poi c'è Danilo. Non mi è piaciuto particolarmente. Ieri 5,5 anche il giallo che si prende all'ultimo secondo della fine del primo tempo che poi porta eventualmente al check del VAR su quello stesso colpo di mano di Danilo. una partita non da Danilo, quella di ieri. 5,5. Forse un po' stanco anche lui, ne avrebbe pure il diritto. Mi aggancio a quello che ho detto ieri dato che ho parlato degli episodi arbitrai. Io non ho detto che non c'è il rosso a Milenkovic. Non ho detto questo. Ho detto che in diretta mi sembrava assolutamente espulsione e quando ho fatto vedere il replay non avevo visto il tocco. Riguardandolo successivamente dopo il video si vede che si muove il parastinco. Io penso che un fallo del genere vada punita anche l'intenzionalità di fare fallo. Se è a centrocampo, c'è una ripartenza, non lo vuoi far passare, ci metti il piede, non lo tiri via, ci sta a dargli il giallo. Ma non ho mai detto che non era espulsione. Ho detto che nel primo replay che ho visto non mi era parso vedere il tocco, che sono due cose abbastanza diverse. Alexandro Male, 5. Adesso mi viene in mente un'azione alla Fiorentina nel primo tempo con Odrio Zola che si lancia da solo, passa in mezzo a Rabio e Alexandro che lo guardano. Lo guardano. Gli passa in mezzo a tutti e due e loro sono lì come due bacucchi che lo guardano mentre passa in mezzo. Ora, se Rabio serve anche a dare quella copertura in fase difensiva, quel qualcosa in più, com'è possibile che il terzino passi in mezzo a due dei nostri giocatori e vada al cross, vada a mettere il cross che poi si possa rendere pericoloso? Com'è possibile? Io non penso che possa essere possibile. Poi Alexandro Male, aveva male, è stato sostituito una partita da 5 in pagella per quanto mi riguarda. Al suo posto entra Luca Pellegrini che non è che faccia la partita della vita, però io con questi giocatori che non hanno mai giocato nella Juve, sono giovani, hanno bisogno di giocarle queste partite, di sbagliarle, non me la sento di dare delle valutazioni negative. È vero, Pellegrini non ha fatto chissà quale partita, però io voglio arrivare a 6-. Mi sembra veramente il diritto, mi sento in dovere di farlo, perché non possiamo pretendere tutto e subito da giocatori che nella Juve non ci hanno mai giocato. Il discorso che faceva l'altro giorno, dato che Pellegrini c'è da noi, ha fatto un giro incredibile per tornare da noi, sai meno. Concedetemelo, concedetemelo, perché è giusto aver pazienza con i giovani. È giusto, penso che sia giusto. Poi passiamo a Rabiot, direttamente, dato che poi voglio soffermarmi sul quadrado. Secondo me è ancora male, secondo me è ancora male con Rabiot. Non riesco veramente a trovargli l'utilità in quella posizione. Faccio fatica, poi ne abbiamo parlato anche ieri, anche sui contrasti aerei. Si fa, cioè è in vantaggio, arriva uno da dietro con più voglia, gli prende comunque la palla. E questa è la domanda che vorrei fare a Max, ma perché lì Rabiot? E attenzione, quest'estate, ve l'ho detto tante volte, secondo me, Rabiot lì, lo vedremo tante volte, perché ci avevamo visto Pogba, ci avevamo visto Matuidi, ci avevamo visto Manzukić. Allegri non era la prima volta che si inventava una roba del genere, però io mi aspettavo potesse fare qualcosa di più. E non è il palleggio che chiedo a Rabiot, non è la suola, il tacco, il gol, l'assist, però almeno la solidità, la fisicità, ti chiedo di mettercele, dato che sei messo lì per quello principalmente. non riesco veramente a capire, io non ho in mente partite veramente fatte bene di Rabiot in quella posizione, sto guardando la media di tutti i voti di Rabiot quest'anno, è 5,25, la media dei voti di Rabiot quest'anno, non è mica alta, non lo so, non mi piace lì, scusami, devo dire, 5, voto 5. Invece entra Quadrado, Quadrado entra e mette subito il cross per Chiesa, dove Chiesa va a impattare la palla e va a tirare in porta, poi ne mette un altro molto brutto e alla terza volta fa gol. Un gol anche importante, decisivo, vitale, un gol anche di coraggio, perché tirare da quella posizione lì è abbastanza inusuale, cioè adesso un mio amico mi ha inoltrato un video del gol al Lione di Quadrado, che vinciamo 1-0 con Lione nel 2016, la posizione è circa quella, il gol è molto simile come dinamica, a me è venuto in mente anche il gol di Maicon col Brasile, che è stato molto più difficile, molto più bello in realtà, rispetto a quello di Quadrado, però vedere dei gol da quella posizione lì di solito è complicato, proprio perché il portiere, in teoria, sta sul suo pallo, marca il primo pallo, la palla non dovrebbe passare mai, quindi diciamo che è stato anche un gol che per quanto bello, vitale, decisivo, è difficile vedere tirare lì, di solito tiri, non è che tiri, ti metti in mezzo, cerchi un'altra giocata, però, tante volte diciamo, cosa crossiamo a fare? Stavolta lo abbiamo crossato, l'abbiamo decisa con questa giocata, Quadrado 7-5, poveraccio, ha giocato 10 minuti, quello che vi dicevo prima, io capisco che non sia in forma, capisco che si voglia provare in un altro modo ad arrivarci al risultato, però ha giocato 10 minuti, ha messo due cross, uno bene, uno male, e ha risolto la partita, io penso che non ci si possa dare altro che 7-5, e anzi, ha alzato il bar centro della Juventus tantissimo, poi ribadisco, sì, era fresco, la Fiorentina Roma in meno, e bla 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 bla, però Quadrado direi 7-5, senza veramente nessun motivo per cui ricredermi, poi abbiamo Locatelli, 6-5, partita ordinata, partita buona, partita più che sufficiente, diciamo che iniziano a trovarsi, lui e McKennie, inizia ad essere un accenno di centrocampo che non mi fa dannare, perché in questo momento non è più il centrocampo la cosa che mi fa dannare, perché lì bene o male, in un modo o nell'altro, ci siamo aggiustati, non è che stiamo vedendo il tiki-taka del Barcellona di Guardiola del 2010-2009, però non stiamo nemmeno facendo robe tremende, e credo che davvero Locatelli-McKennie sia il motivo per cui arriviamo a dire questo, poi McKennie è da 7, ragazzi, McKennie ha fatto un'altra partita incredibile, aggiungo io, dato che non lo leggo da nessuna parte, il primo giallo di Milenkovic nasce da un McKennie che prende palla a centrocampo e fa un po' quello che vuole, e non era la prima volta che durante la partita faceva quello che voleva, McKennie è proprio un altro giocatore, è per questo che vi dico, ma perché mi tocca sentire eh però sì Rabio dai se ci pensi bene, ok che non è stato bravi, però dai qualcosi, ma no, ma no, ragazzi ma siamo nella Juventus, e qualcuno ieri mi ha detto continui a prendere di mira Rabio perché guadagna 7 milioni di euro, se non fosse così ti darebbe meno fastidio, eh sì, eh sì, ma certo che sì, ma ovviamente sì, se c'è un giocatore che guadagna tanto nella Juve, che mi blocca il mercato, che non ha dimostrato, che non mi fa vedere, ma certo che mi dà fastidio che guadagna 7 milioni di euro all'anno la Juventus, non può non darmi fastidio, poi se vedo altri giocatori soprattutto che guadagnano meno e fanno tanto di più e rendono tanto di più, mi viene il dubbio di chiedermi, per quale motivo dovrei lasciarli Rabio? Per sentirmi una persona migliore? Perché non sto dicendo, non sto pensando, oddio poverino Rabio e dopo come fa? Oddio Rabio poverino come fa? Ma secondo me ci arriva a fine mese da qui alla fine dei suoi giorni, cioè delle due poverino io, mica poverino Rabio, poverino Rabio, è uno simoro poverino Rabio, 7 milioni di euro all'anno, per forza mi danno fastidio poi certe cose, non posso, non ce la faccio a dire, eh vabbè dai però, allora bene la pagina, facciamo le pagelle, diamo sempre tutti 6, partiamo dalla serie, arriviamo al 10, al 10, quadrato 10, Rabio 6 più, per in 7, ma non è così ragazzi, cioè se si gioca male bisogna dirlo, se si gioca bene bisogna dirlo, se si gioca male bisogna dirlo, cioè non riesco a capire perché dobbiamo fare i buonisti con Rabio, perché poverino, solo perché guadagnano 7 milioni di euro all'anno, e beh, sì, è, già, insomma, per forza di cose, cioè se siete in un'azienda guadagnate 2000 euro al mese, il massimo che fate è un solitario comprato fiorito, secondo voi, i vostri colleghi dicono, vabbè poverino, capo lascialo stare, cioè solo perché guadagno 2000 euro al mese e non rende, beh, il capo di giorno un po' i coglioni, secondo me, secondo me, poi voglio vedere se è vero oppure no, passiamo all'attacco, siamo all'attacco dove Chiesa secondo me si prende 6 e mezzo, non è stata una grande partita nel complesso da parte di Federico Chiesa, però è la scintilla Federico Chiesa, procura l'espulsione di Milenkovic, prende la traversa, va a prendere quel cross di quadrado, un'altra occasione nel finale quando siamo già nell'1 a 0 oltre al recupero dove tira in porta, c'è stato un momento che la fase offensiva della Juventus era Federico Chiesa, è questo che mi piace di Chiesa, nel momento decisivo, nel momento quando lui capisce che veramente è ora, Chiesa si accende, funziona, va, crea, che cattiveria, ma anche dal niente, la traversa nasce da un pallone un po' così, messo lì, niente, lui lo traduce in una bomba che spacca in due la traversa, poi, ovvio, poteva far di più nel resto della partita, ma siccome ieri siamo stati anche un po' disordinati nella nostra fase offensiva, per quello non si è visto tanto, poi i complici di Bala che non era una serata migliore, secondo me nella testa di Allegri c'è questa voglia di 4-3-3 particolare, perché ieri per tanti momenti della partita l'abbiamo visto che erano 3 a centrocampo e 3 in attacco, con Chiesa che si alzava e che stava un po' più fermo, però eravamo sempre un po' confusi, non capivamo poi come dovevamo scalare quando perdavamo palla, non riuscivamo, poi complice anche magari del fatto che la Fiorentina fosse messa bene, però ieri non eravamo messi bene, ma non eravamo nemmeno libri di testa come lo eravamo con lo Zenit, quindi si è vista la differenza, non mi stupisce questa cosa, ma la differenza si è vista, anzi penso che Allegri abbia preparato la partita con la Fiorentina esattamente come l'ha preparata con l'Inter, come l'ha preparata con il Milan, come l'ha preparata con il Napoli, come l'ha preparata con la Roma, con il Chelsea, lui l'ha messa nel filone delle grandi squadre e quelle non sono le partite da giocare, quelle sono le partite da vincere, per citare Allegri, poi con la sua scuola è andata male, siamo d'accordo, anzi, sono le partite da giocare, scusa, non le partite da vincere, sono le partite da giocare, che poi se arrivi alla vittoria attraverso il sacrificio è perché considera la Fiorentina una grande squadra. Di Bala, 5 e mezzo, non il miglior Paolo Di Bala, devo dire la verità, anzi, anche lui un po' pasticcione, col pallone tra i piedi, dopo la bellissima prestazione con lo Zenit, un ridimensionamento, ma che non ci deve veramente complicare la vita, non deve farci piangere, non deve metterci in difficoltà, capitano anche le serate in cui non gira nemmeno Paolo Di Bala, 5 e mezzo, semplicemente. Do 5 e mezzo pure a Morata, vi spiego il perché, perché non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Però se riguardate anche solo gli highlights, nel primo tempo è uno veramente dei pochi a metterci della voglia in campo e provare a creare delle occasioni. Poi, l'opzione è quasi sempre stata la peggiore, l'esecuzione non è mai venuta, ieri in live dicevo, Morata somiglia terribilmente a me come attaccante, io gioco attaccante, no? E sono un attaccante che non fa gol, Morata è un attaccante che fa pochi gol, ma se mi chiedi di sacrificarmi, di correre tutta la partita, di sbattermi, di fare la lotta, di correre in contropiede, io te le faccio tutte. E la stessa cosa la fa Morata. Però io non sono il centravanti titolare della Juventus e per quanto Morata sia ovviamente più forte di me a livello tecnico, di ragionamento, atletico, mi sembra anche assurdo doverle dire, però il centravanti titolare della Juventus io credo che debba essere anche un po' più cattivo nelle scelte, negli ultimi metri, di capire che cosa deve fare, di averla giocata in anticipo. Nel secondo tempo c'è un momento in cui Morata ha la palla per tirare in porta, la far imbalzare e una, e due, e tre, e poi ha già perso il tempo e c'è già Terracciano che esce e la fa sua. Quindi bene per l'impegno, Alvaro. Ok, ma inutile, non sei e forse non sarai mai ormai quel centravanti d'area di rigore che ci serve in questa situazione, in questo momento, perché se no continueremo a essere super sterili in zona offensiva se Di Bale e Chiesa non accendano la luce. Abbiamo bisogno di un terzo che accenda la luce, ma banalmente quella luce può essere accesa anche solo con il colpo di testa che fa gol, l'appoggio dopo essere andati a lottare, metterla giù di petto, sui piedi di quello che tira. ci mancano queste cose qua, Alvaro. È per questo che faccio veramente fatica a vedere un futuro di Morata nella Juventus. di Morata